La proposta di risoluzione del Partito Democratico La proposta di risoluzione del Partito Democratico In merito all'ipotesi di posizionare un rigassificatore nel porto di Piombino e alla situazione relativa all'infrastrutturazione, alle bonifiche e alla reindustrializzazione dell'area siderurgica, l'Aula di Palazzo del Pegaso ha votato a maggioranza la proposta di risoluzione del Partito Democratico con 22 voti a favore, 12 astenuti e il voto contrario del portavoce dell'opposizione Marco Landi. Il gruppo del Partito Democratico, richiamando anche la storia industriale dell'area di Piombino, non giudica adeguate le modalità adottate dal governo riguardo alla decisione di individuare proprio quel territorio come sede di uno dei nuovi rigassificatori proposti dall'esecutivo nazionale. Da qui una proposta di risoluzione che impegna il Presidente della Giunta regionale ad attivarsi tempestivamente, al fine di definire un progetto complessivo per il rilancio del territorio di Piombino da sottoporre al governo, che tenga insieme i temi della rigenerazione produttiva, del risanamento ambientale e delle infrastrutture. L'obiettivo delle norme è sempre uno, la salute e la sicurezza dei cittadini, quindi niente può transigere dal fatto di avere tutte le condizioni perché venga assicurato questo. Secondo elemento, io ritengo che Piombino debba avere una prospettiva nella logica e nella strategia del governo nazionale che ha deciso il posizionamento nel porto Piombino della nave di risgassificazione tenendo conto di tutte quelle che sono state le esigenze che non sono state concretizzate in questi anni. Quindi ho fatto un memorandum che è un decalogo con 10 punti e che prevede una serie di adempimenti su cui io voglio una disponibilità e soprattutto una concretezza da parte del governo sul piano delle bonifiche, sul piano delle infrastrutture stradali che consentono di evitare il traffico che va verso il porto nella città, sul piano della nuova visione del promontorio e quindi sulla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, eolica, fotovoltaica ma anche di realizzazione di un distretto per la produzione di idrogeno e poi il rilancio della siderurgia con forno elettrico, non certo con l'inquinante alto forno e naturalmente anche il completamento dello stesso porto. L'interesse nazionale che riguarda Piombino è prima di tutto quello di rilanciare la siderurgia e di ridare occupazione, è quello di portare avanti le bonifiche, di infrastrutturare meglio il porto sia dal punto di vista della viabilità sia dal punto di vista ferroviario. Queste sono le priorità che con la nostra risoluzione noi abbiamo posto al Governo e come contributo al Presidente Gianni che è anche il commissario per la realizzazione eventuale del rigassificatore. Per quanto riguarda quest'ultimo ci sono delle precondizioni che devono essere prodotte, vale a dire garanzie per quanto riguarda la sicurezza dell'eventuale presenza della nave metaniera nell'ambito del porto, la certezza per quanto riguarda l'operatività del porto in tutte le sue funzioni, ma soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con l'isola Adelba, garanzie per quanto riguarda la parte ambientale delle acque e proprio in relazione anche agli allevamenti ittici che lì sono presenti. Noi dobbiamo proseguire nell'azione di diversificazione dell'approvvigionamento energetico per quanto riguarda l'Europa, lo dobbiamo fare dando il nostro contributo come Regione Toscana, come Italia, più o meno è stata scelta dal Governo e sta dentro le logiche degli interventi di carattere europeo, riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città, per la Toscana, non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro, ci può essere ricchezza, ci possono essere delle opportunità, ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio, quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova che consente di rendere l'Italia indipendente dall'approvvigionamento russo, questo è un elemento di grande importanza del fabbisogno nazionale, è un intervento similare che si è già sviluppato tra Piombino e Livorno, è evidente che siamo nella costa Toscana, è evidente che c'è quello che per noi è una delle priorità, la grande attenzione di carattere ambientale, lo sviluppo turistico, le questioni della pesca, tutte questioni che devono essere conciliate rispetto al rispetto dell'ambiente, rispetto alla sicurezza del lavoro, ma deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro, creare ricchezza, io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi, questa deve essere una scelta importante. Il Presidente Gianni si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornia che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera che dovrebbe essere ricompensata a quanto ci riporta il Presidente in questa comunicazione della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatto e che differisce molto tra l'altro da quello che ci era stata presentata in forma scritta, di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente, soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come SNAM, ma ci deve dare il governo e le istituzioni. Siamo rimasti basiti dal fatto che dovremmo ricevere rassicurazioni dal Governatore Gianni che evidentemente non ha ancora capito che ruolo è stato chiamato a compiere perché lui è commissario per realizzare il gasificatore, non è commissario per decidere se fare o no il gasificatore. Quindi oggi vi vengo a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino è sicuramente una bella posizione che da Governatore della Regione Toscana è giusto che assuma, e nessuno dubita che da Governatore voglia tenere a cuore la città di Piombino, peccato che dal Commissario lui non debba decidere. Hanno già deciso altri per lui, ha deciso tre mesi prima il Ministro Cingolani, senza sentire nessuno né tantomeno il Sindaco di Piombino, che quell'opera si farà e si farà lì e Eugenio Gianni ha 120 giorni di tempo per fare l'opera, quindi non è che oggi ci può tranquillizzare. Sul Decalogo, ancora peggio, perché oggi lui legge in aula dieci punti che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per tre anni e questi dieci punti non capiamo con chi li abbia discussi. Noi siamo abituati alle novelle del Presidente Gianni, noi però guardiamo i documenti. Per il rilascio dell'autorizzazione alla nave rigassificatrice di Livorno sono stati impiegati 14 anni, un grande numero di tecnici, hanno dovuto valutare tutte le criticità e tutti gli aspetti, io non capisco come lui possa essere così ottimista e soprattutto essere così sicuro riguardo anche alla sicurezza, perché mettere a repentaglio la sicurezza di un'intera città che diventerebbe non solo zona di interdizione, perché se si proiettano sulla città di Piombino le zone di interdizione previste sulla nave ancorata a 12 miglia da Livorno si crea una zona di interdizione molto bassa e non riesco a capire come faccia a eludere lui queste zone di sicurezza. Tra l'altro se anche lei elude il Governo nazionale ci sono delle norme internazionali di sicurezza riguardo alle navi rigassificatrici che non possono essere eluse. Abbiamo lavorato con serietà a un testo condiviso per sottolineare l'inopportunità di una simile distribuzione degli utili da parte di Toscana Aeroporti in un momento come questo. Così il consigliere del Partito Democratico Massimiliano Pescini ha annunciato l'accordo sulla mozione presentata da Fratelli d'Italia a firma dei consiglieri Torselli e Petrucci che esprime contrarietà rispetto alla decisione di Toscana Aeroporti che dopo aver goduto di importanti risorse pubbliche per far fronte all'emergenza pandemica ha deciso di corrispondere 7 milioni di euro di dividendi ai propri soci. Toscana Aeroporti ha ricevuto un contributo di 10 milioni di euro da parte della regione toscana per far fronte alla crisi pandemica ma a fronte di quel contributo si era impegnata a garantire i livelli occupazionali. Garantire i livelli occupazionali vuol dire che se ci sono mille dipendenti se ne mantengono mille al netto di dimissioni, pensionamenti e via dicendo. In realtà questo non è successo, i dipendenti sono calati di circa 150 unità per di più non c'è stata l'integrazione degli stagionali il cosiddetto supporto summer perché comunque durante l'estate ci sono più passeggeri e c'è necessità di maggiori addetti e per di più l'impegno riguardava sia il diretto che l'indiretto invece Toscana Aeroporti per mese ha tentato di vendere Toscana Aeroporti Handling che è un ramo della stessa società quindi ha fatto tutto il controllo di quello che sarà impegnato a fare. Se ciò fosse vero e risultasse vero deve restituire 10 milioni di toscani alla regione toscana che noi chiediamo di dare alle piccole e alle medie imprese. Oggi c'è stato un passaggio importante in Consiglio regionale anche sui dividendi perché a fronte di quei 10 milioni il CDA di Toscana Aeroporti ha deciso di dividere 7 milioni di utili siamo felici che la nostra mozione di cui sono primo firmatario che esprime contrarietà all'atteggiamento di Toscana Aeroporti che si è divisa gli utili ovvero soldi che le avevamo dati come regione toscana sia stata votata l'unanimità da tutto il Consiglio regionale. È evidente che la garanzia principale deve essere quella occupazionale deve essere quella del fatto che le attività aeroportuali devono funzionare per una regione come la Toscana la fruibilità degli aeroporti la funzionalità di una società così importante che consente in maniera integrata di lavorare sia a Firenze che a Pisa è fondamentale nella ripartenza del turismo lo stiamo vedendo in queste settimane in un contesto europeo che comunque vede i voli aerei in grave difficoltà basta guardare il numero degli annullamenti che ci sono stati nelle ultime settimane e quindi credo che quella scelta fatta a suo tempo sia stata importante e lungimirante perché ha consentito di tenere in piedi un sistema che ha bisogno di fare investimenti che ha bisogno di sviluppare che ha bisogno di fare l'adeguamento delle infrastrutture penso alla nuova pista di Peretola e penso alla possibilità e al diritto che ha la città e la Toscana di avere un aeroporto all'altezza del blasone, della storia e del valore che ha la nostra regione e che ha il capoluogo della regione Nel momento in cui nel 2014 si è scelto di vendere le quote di quello che è considerato comunque un settore strategico tuttora per regione toscana ovvero il sistema aeroportuale oggi come dire da socio di minoranza è chiaro che il peso del privato e quindi in questo caso dell'incorporazione america naturalmente si fa sentire quindi noi abbiamo sì sovvenzionato ma all'interno del CDA oggi siamo fortemente ridimensionati questo è un aspetto che secondo noi era meritevole di attenzione anche perché è chiaro che in questo assetto societario ben poco può incidere il socio pubblico quindi come Consiglio regionale abbiamo dato delle chiare indicazioni in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori è evidente che su questo si sta cercando di effettuare il massimo monitoraggio ed è stato fatto il massimo sforzo noi diciamo però che la scelta fatta a monte nel 2014 di ridimensionare la partecipazione pubblica oggi ci mette nella condizione di essere in mano fortemente diciamo al soggetto privato il quale non dimentichiamoci ha degli impegni precisi sul fronte investimenti Sì, contesta i dividendi soprattutto contesta che di questi 10 milioni oggi abbiamo una rendicontazione soltanto di poco più di 3 milioni non abbiamo chiara la situazione occupazionale abbiamo denunciato che ogni anno Toscano Aeroporti assume i dipendenti stagionali quest'anno i dipendenti stagionali non sono arrivati in nessuno dei due scali aeroportuali ho fatto un'indagine di personale si parla di diverse unità in meno anche rispetto al 2019 mentre invece il numero dei passeggeri i dati dei passeggeri ci fanno pensare che la stagione estiva si possa chiudere con un più rispetto addirittura al 2019 quindi anche noi come Lega abbiamo presentato un atto abbiamo chiesto alla Giunta regionale che faccia un'indagine appunto su tutto il settore su tutte le dipendenze occupazionali e che venga a settembre per farci capire, relazionare se veramente sono stati rispettati o no i livelli occupazionali perché da quello che ci dicono i sindacati e tutte le persone che abbiamo incontrato purtroppo questo patto non è stato rispettato per farci capire è un'indagine appena Grazie.